buonasera a tutti ben ritrovati con podismo atletica questa sera proprio atletica leggera faremo vedere i campionati di società di atletica svoltosi ad arezzo insieme a buonasera da davide faltoni a tutti ecco questa manifestazione che diciamo è entrata a pieno titolo nel panorama atletico a retino ha visto un impegno abbastanza importante un grande spettacolo una grande organizzazione una bella due giorni di un livello tecnico altissimo e che dire insomma arezzo torna si riaffaccia a pieno titolo nel mondo dell'atletica anche anche proprio come sede di eventi e oltre che ritengo insomma anche per la presenza di molti atleti a retini ahimè anche se tesserati per altre società che non insomma non a retine però ecco scusami davide qui intanto vediamo purtroppo diciamo le condizioni meteo hanno condizionato tantissimo questa manifestazione ma non ha disegnato di avere grande spettacolo questa qui è il lancio del martello che è stato disputato prima diciamo quasi di pranzo che intorno all'una e mezzo quindi un orario in cui ovviamente ancora non c'erano altre gare anche perché il martello è una diciamo una specialità un pochino particolare quindi bisogna stare sempre molto attenti non devono esserci altre gare né dintorni ed ecco per questo che è stato fatto questo poi dopo chiaramente il pubblico si è avvicinato ha cominciato a presentarsi e direi quegli spalti sono stati uno spettacolo anche di presenza gli spalti pieni ma direi erano era era veramente lo stadio d'atletica era era oltre che gremito direi proprio vivo e ora non voglio fare ma insomma era molto bello ma volevo dire confrontandolo con l'altro stadio che c'era la partita insomma era molto più triste quello che mentre il nostro era veramente oltre che pieno di 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 voglia di vincere di di fare sport ma pieno di gente sì ecco fra l'altro prima abbiamo visto proprio il martello femminile che è stato vinto da calgani vittoria della firenze della firenze maraton davanti a nuovi natali natali natalia dell'atletica livorno 59 59 51 92 50 e 48 per la seconda e bondielli elisabetta dell'atletica 2005 40 75 abbiamo visto poi gli ostacoli femminili le 110 e 100 ostacoli femminili con pennella paula dell'atletica firenze maraton che ha vinto con 14 55 davanti a renzi federica monte paschi siena 14 85 e selene lazzarini della toscana atletica impoli con 14 91 queste invece sono i cento di 10 ostacoli maschili che abbiamo visto per fortuna diciamo un personaggio arretino quindi letta di casa esatto quindi sempre tesserato con la fredda maraton ma comunque sia ecco marco cappetti della fredda maraton 15 03 ha vinto ha ripetuto diciamo abbissato il successo dello scorso anno di questa in questa specialità e poi qui siamo passati invece alla gara dei metri dei metri 100 ecco vediamo proprio una una susseguirsi di gare che si sono disputate nella nella giornata direi che c'è stata una tregua del sabato dopo il martello che è stato sotto la pioggia poi c'è stata una tregua diciamo di almeno un paio di ore poi di nuovo pioggia si poi era anche freddo insomma le condizioni meteo non ci hanno aiutato però la manifestazione non ne ha minimamente risentito esatto esatto è chiaramente un pochino più ne hanno risentiti i salti i salti e lanci forse sono stati quelli più penalizzati in questa circostanza che nel salto nel salti in alto effettivamente diciamo che il risultato di di baciotti e elenora della firenze marato 1.71 comunque sia sempre di un certo di un certo livello durante la di labarto della bartola irene virtus lucca 1.65 1.57 invece per l'essia magnifico della casa risparmio pistola e lucchesia qui siamo passati anche all'assalto in lungo anche questa è un'altra delle specialità come l'asta ovviamente un pochino penalizzati dalle condizioni meteo ma comunque sia 4.60 nell'asta direi che è un buon risultato e qui siamo alla gara forse clou della giornata ora vedremo una fase di rallenti in cui la l'atleta diciamo delle cuspisa e anche per quanto riguarda i carabinieri abbiamo visto la anna buongiorni che ha vinto questa gara ma direi con un risultato tecnico anche elevato 11.6 11.60 che è uno dei migliori risultati stagionali diciamo italiani assoluti al secondo posto è arrivata all'Ordre 11.64 11.68 per l'Irene Siracusa poi al quinto posto anche la Chiara Bazzone la nostra diciamo atleta quasi di casa che si è cimentata nella sua specialità un pochino anomala 100 e 200 lei è una specialista dei 400 quindi è chiaro che ha un pochino subito certe cose insomma ecco quindi sotto questo aspetto che sicuramente ha avuto delle diciamo delle difficoltà però è una fase di preparatoria importante diciamo che hanno fatto parecchio bene le altre ecco insomma esatto è stato uno spettacolo veramente la gara di 100 e di 200 forse sono quelle che hanno monopolizzato maggiormente l'attenzione anche del pubblico che sapendo proprio il valore elevato di questa di questa gara qui vediamo anche sempre le gare del salto con l'asta che ovviamente insomma 4.60 direi che non sono non sono male come risultato anche in virtù proprio di questi campionati di società che sono campionati di società direi che hanno visto Arezzo quasi protagonista anche se sono a livello regionale hanno visto Arezzo fra i protagonisti perché un po' con la buongiorno un po' con Chiappinelli diciamo nelle sepie che poi vedremo sotto una un diluvio sono riusciti ad ottenere risultati tecnici importanti sì no Arezzo obiettivamente a parte la squadra ma esprime atleti di un certo livello quindi insomma ci sono le basi anche perché poi questi ragazzi si allenano effettivamente lì al campo con noi insomma non è che quindi Arezzo credo a pieno titolo ecco abbiamo visto chiaramente poi ora vedremo anche le immagini relative anche alla Benedetta Cugno che ha diciamo vinto la gara del salto triplo quindi chiaramente ecco personaggi che possono ancora dire a loro insomma la realtà retina è viva bisogna che sia ora concretizzata forse con un con un amalgama tra le varie realtà intanto qui vediamo la gara dei 400 maschili 400 uomini con Bianciardi Lapo 47 e 38 direi che è un buon risultato insomma tutto sommato i 47 e 48 invece per mezzaluna Umberto è giunto proprio secondo quindi spalla a spalla al terzo posto è Filippo Bruschi della Firenze Marathon con 49 e 56 direi quindi un buon risultato fra l'altro Bruschi mi sembra che dovrebbe essere proprio un aretino che corre con la Firenze Marathon ecco in questa fase di in questa seconda in serie diciamo dei 400 piani ma dicevamo ecco che la pista di per sé è una pista importante che può ovviamente ospitare tanti atleti ad alto livello e al tempo stesso beh direi che è anche una una realtà una realtà che può accogliere può accogliere diciamo sì Arezzo è un punto strategico perché comunque ad Arezzo arrivare anche per fare le gare è molto facile oltre il fatto che c'è il treno ma insomma l'autostrada le vie di comunicazione per il centro Italia nel centro Italia io credo che sia uno dei posti più strategici quindi anche per gare che abbiano una portata più ampia di quelle regionali ecco fra l'altro diciamo che la parte proprio logistica organizzativa è riuscita benissimo vediamo tutti questi gazebo disposti anche nel campo proprio in previsione delle condizioni meteo avverse hanno veramente supportato anche il carico diciamo l'impegno diciamo dei volontari e dei giudici che ovviamente hanno dovuto operare insieme agli atleti in condizioni a volte veramente purtroppo l'atletica si fa all'aperto e quindi il tempo non lo scegliamo e quindi sì però ecco ripeto sì l'organizzazione è impeccabile quindi te e il tuo gruppo avete veramente dato avete fatto un lavoro enorme a dire che qui diciamo che il gruppo d'equipe tra la Polisportiva Policiana la Rizzo Atletica la Alga Etrusca e la Freerane diciamo c'è stata e questo diciamo questo trio di realtà possono essere in grado di poter anche aspirare direi che come evento senz'altro è riuscito sia dal punto di vista organizzativo sia dal punto di vista tecnico quindi è una premessa questo è il secondo grosso evento che adesso facciamo di atletica leggera io mi auguro che tutte le società trovino un modo di compattarsi continuamente per portare avanti questi risultati è una manifestazione veramente meravigliosa e la dimostrazione che la nostra città è sempre più pronta ad accogliere manifestazioni di questo livello lo dicevo prima è dettata anche dal fatto che nei momenti in cui abbiamo visto la partenza e la gara dei 100 metri femminile c'era un silenzio incredibile non volava una mosca quindi evidentemente piano piano la cultura sta crescendo anche in questo ambito e quindi la volontà ovviamente è quella di sostenere sempre di più manifestazioni di questo tipo spero che ci siano sempre più giovani che si avvicinano a questo sport e allo sport in generale quindi è un aspicio insensolato e per quello che ci riguarda ovviamente daremo tutto il contributo possibile a sostenere manifestazioni di questo livello di questo tipo ecco abbiamo sentito prima il delegato provinciale del CONI il professor Giorgio Cerbai e poi il vice sindaco Gianfrancesco Gamorrini che hanno espresso diciamo un'opinione positiva nei confronti sono rimasti molto ben impressionati questo questo fa piacere fa piacere a tutti fa piacere anche a tutti sì è stata una cosa direi una prova che abbiamo dato come atletica quindi sì anche alle istituzioni e alla città ripeto non ci dimentichiamo le condizioni meteo e avverse e anche il fatto che Arezzo proprio quel giorno ha visto tutta una serie di iniziative in contemporanea oltre la partita dell'Arezzo avevamo anche l'apertura del museo della cassa dei tesori la fiera oro Arezzo quindi insomma gli eventi non mancavano però il pubblico non è mancato nemmeno a noi insomma quindi ecco questo essere riusciti ad avere così tanto pubblico così gran successo significa chiaramente che insomma l'atletica piace quando gli eventi sono organizzati bene come questo anche perché ci sono stati diciamo dei risultati tecnicamente validi ma al di là di questo ogni gara aveva una sua storia quindi non è che era una gara già ammazzata dal personaggio principe e gli altri erano secondi insomma qui per esempio vediamo proprio questo finale dei metri 1500 in cui l'atleta Ferrara Alessio del centro del trega Piombino va a vincere in 3-58 ma contro Annumberto dell'atletica futura 4-0 netti poi dopo abbiamo avuto anche Sandrucci Marco nel cosa abbiamo avuto insomma quindi tanti personaggi che hanno ottenuto anche degli ottimi risultati e hanno dato vivacità anche la competizione in campo femminile invece il 1500 sono state vinti dalla Giulia Aprile un'atleta nazionale che corre con la Firenze Marathon 4-32 4-43 per la Belinda Scimutai l'atleta diciamo giovanissima allieva che corre con l'atletica Empoli 4-43 4-46 invece per Federica Baldini del Cuspisa in 4-46 qui intanto vediamo altre serie diciamo dei metri 1500 perché poi come abbiamo potuto anche constatare le batterie erano 10-12 serie di 100 c'erano il numero complessivo di circa 1500 atleti fa capire il movimento che c'è intorno anche a questa attività benché se ne dica insomma questi sono tutti i giovani che vanno dai 16-17 anni fino ai diciamo ai 50 anni insomma per capirsi no no il numero di atleti elevatissimo insomma era anche il primo giorno si è dovuto prolungare le gare la fine della marcia era oltre le 11 lo vedremo insomma la giornata è stata molto lunga da un quarto alle due quando è cominciato un martello sotto la pioggia abbiamo terminato con tutta la pioggia diciamo in un orario veramente ancora più più elevato ecco qui intanto vediamo ancora altre serie dei 1500 qui erano quelli senza tempo in cui c'era anche il Khalil e Yassin un atleta nostro della polisportiva di Polisciano che effettivamente essendo diciamo senza tempo ha dovuto fare una gara con altri soggetti però è riuscito a andare molto bene perché tutto sommato alla fine ha fatto anche un buon risultato è arrivato con 4 e 10 quasi una gara tirata per conto suo è arrivato undicesimo assoluto quindi tutto sommato non male forse se era partito con la serie dei migliori poteva anche dire la sua in modo più approfondito comunque un bel risultato almeno adesso c'è anche il tempo può essere accreditato insomma sia qui che poi nei 5.000 il giorno dopo quindi ha fissato anche la gara il giorno dopo molti facevano doppie gare ma ci sono stati atleti veramente che hanno ottenuto anche dei ottimi risultati poi dopo vedremo anche nel proseguo direi che la pista di Arezzo poi rende molto anche da un punto di vista tecnico quindi i risultati si possono trovare direttamente e questo fa ben sperare anche per il futuro noi ci candidiamo l'anno prossimo anche come realtà atletica di Arezzo ad ospitare nella nostra città un evento di un certo prestigio per quanto riguarda l'atletica perché poi l'atletica è anche spettacolo ma poi speriamo anche per la prossima estate di poter mettere ora se non vero proprio meeting ma qualcosa che possa avvicinarsi molto cominciamo per gradi cominciamo anche perché ecco qui già si vede il cambio del fondo quando è iniziato a piovere che sicuramente qui andiamo ecco all'atleta proprio dei 1500 l'atleta Giulia Aprile della Firenze Marathon che è un atleta nazionale molto forte ha poi cercato il giorno successivo di provare anche gli 800 ma purtroppo non era nel ritmo adeguato però vediamo una bella corsa quindi questa atleta che corre con l'esercito molto bene quindi una bella spinta questo ecco ci sono stati molti giovani e abbiamo visto proprio un movimento giovanile che sta crescendo speriamo che possa tenere perché poi il problema principale è mantenere questa linea di condotta per le diciamo le fasce d'età successive quindi intanto vediamo anche la Barnesca Francesca che ha gareggiato in questa la Martinelli la Martinelli ecco poi ha gareggiato anche la Fontane Camilla insomma quindi diciamo che qualche diciamo qualche spruzzo anche di Arezzo c'è stata diciamo anche se in maniera forse un po' discontinua e questo deve servire anche a diciamo a colmare un po' questa lacuna che c'è nella nostra città quella proprio di assembrare un po' le forze e poter essere una realtà unica nella Tre Rega Leggera per poter rilasurare anche a livello regionale perché no anche a livello nazionale le condizioni ci potrebbero essere le condizioni sì poi credo sia da stimolo anche per i nostri ragazzi vedere queste gare partecipare io credo che comunque poterci partecipare con una squadra e quindi con i colori della loro città forse darebbe anche un altro stimolo forse sarebbe anche da traino per altri perché in questo modo un po' si perde perché chiaramente insomma Arezzo di fatto non gareggiava insomma ecco eh sì gareggiavano esclusivamente a livello individuale sì a livello individuale e quelle altre che erano già appoggiate con altre realtà diciamo della della Toscana però insomma se diventano invece realtà di Arezzo è importante qui siamo alla gara direi una delle gare più belle da un punto di vista tecnico più elevate perché qui avevamo degli atleti a livello proprio mondiale addirittura dico campione europeo per quanto riguarda Chiappinelli Ioannis Chiappinelli che fra l'altro lui diciamo è stato campione europeo nel 2015 nelle SEPI una prestazione che ha intorno a 8-19 ma chiaramente le condizioni meteo qui hanno hanno veramente dato ancora si vede poco si vede poi veramente un umbifragio è entrato a pieno regime in questa gara che è stata condotta dalla dagli atleti diciamo del Kenya in questo caso qui gli atleti che gareggiano con altre realtà e qui vediamo che comincia un pochino a intensificare ecco qui proprio la pioggia è stata una cosa impressionante qui c'è Mutai Albert della Toscana la Trenica ha vinto in 8-40 davanti a Ioannis Chiappinelli del Montepasco di Piazzale che siano 8-44 e poi terzo posto è Chisorio Chimeli della Virtus Luca 8-57 insomma quindi se andiamo a pensare sotto una pioggia incensante fare 3.000 SEPI è vero che c'era anche la Rivera che poi uno doveva diciamo superare ma insomma ecco e poi le donne la stessa cosa anche per loro è stata una diciamo delle gare forse più impegnative da un punto di vista proprio della sopportazione delle condizioni meteo insomma ecco e anche qui abbiamo visto la giovane Giada Scantamburlo che è una promessa della Virtus Luca 11-24 al suo tempo alle sue spalle la Chiara Giacchi della Trenica 2005 con 12-14 al terzo posto la Stefania Vernacchio della Trenica Cascina 12-23 sicuramente sono state un po' penalizzate ecco proprio da questa situazione ambientale che non ha non ha contribuito anche se la temperatura tutto sommato ancora poteva essere buona per un mezzo fondista però ecco è chiaro che la pioggia poi anche per gli appoggi non sono così più più semplici più facili per saltare anche le serbi insomma dicevo che prima abbiamo visto anche il vice sindaco presente e che ha elogiato la manifestazione ma insomma riconosciamola questa amministrazione ci sta dando una mano insomma sembra che voglia credere in noi nella nostra nell'atletica retina e quindi vediamo se tutti insieme anche con l'appoggio dell'amministrazione pubblica riusciamo a fare un salto notevole di livello e qui siamo passati alla staffetta 4% che è stata vinta dalla Virtus Luca con il tempo di 42-41 davanti alla Firenze Marathon 42-54 43-45 la seconda staffetta della Firenze Marathon mentre al quarto posto è arrivata la Trelica Livono 43-75 44-29 per la Trelica Prato e al sesto posto 44-69 per il Cuspisa direi anche questa molto spettacolare queste staffette perché poi effettivamente coinvolgi tanti concorrenti poi erano tutte piene erano 6-7 corsie piene di staffettisti quindi dà una sensazione veramente di movimento molto brioso molto spettacolare e qui chiaramente poi diciamo anche il calore di gruppo è determinante insomma ma lo stesso il passaggio del testimone che è un momento molto anche quello oltre che tecnico ma molto emozionante credo che no 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 abbiamo lo spettacolo non manca ecco e per dire questi hanno gareggiato alle 8 e mezzo alle 8 di sera insomma poco più 8 e mezzo quindi condizionate sempre con le condizioni meteo che in questo momento qui avevano un pochino fermato un po' la pioggia poi dopo c'era ancora da fare le gare di marcia quindi l'impegno era ancora abbastanza gravoso qui siamo passati invece alla staffetta femminile anche questa è stata una staffetta molto qualificata ovviamente la Tredica Livorno ha vinto con 48 e 20 però soltanto 4 decimi la separano dalla cospisa quindi qui lotta serrata fra le protagoniste dei 100 metri che si sono poi distribuite nei vari cambi e nella zona dell'arrivo vediamo che la buongiorno mi sembra non so se faceva l'ultima frazione o meno ha cercato in tutti i modi di poter recuperare ma non ce l'ha fatta per un per un soffio ecco qui vediamo proprio nel finale sì è proprio stata questa è una seconda serie della 4% ecco vediamo che proprio i concorrenti stanno stanno facendo questi cambi direi molte squadre erano veramente affiatate quindi abbiamo visto i cambi perfetti altri ecco qui vediamo proprio un cambio sbagliato nel terzo cambio peccato nel secondo cambio c'è stato questo errore che ha condizionato il risultato della società anche perché poi qui sappiamo che sono 18 punteggi che danno la possibilità di acquisire poi alle fasi successive e quindi vanno a prendere migliori 18 punteggi qui intanto vediamo ancora altri arrivi velocità diciamo massime che gli atleti cercano di raggiungere qui ancora altre batterie altre serie diciamo della 4% perché anche questi erano tante erano tre serie della 4% quindi per far capire che tante società insomma che prendevano parte a questa realtà tornando un pochino anche alla diciamo all'impostazione anche della manifestazione direi direi anche da un punto di vista coreografico gli abbiamo dato una bella immagine insomma al di là di per sé che è già bello di per sé l'impianto però sicuramente l'aspetto anche proprio innovativo anche nel podio delle premeazioni e altre situazioni hanno dato un'ottima impressione alla manifestazione eh sì un impatto visivo notevole chiaramente ci sono stati dei ritardi nel finale ma proprio dovuto anche alle condizioni meteorologiche e soprattutto il discorso della marcia forse ecco questo mi diciamo mi viene da da menzionare la marcia che deve essere un pochino rivista almeno per quanto riguarda l'interno diciamo l'impianto di atletica cioè la marcia all'interno della pista dovrebbe essere fatta in questa occasione qui massimo 3-5 km fatta insieme oppure fare una come fanno le Olimpiadi e i campionati fanno un'entrata all'interno della pista fanno 2-3 giri poi escono fuori e poi rientrano quando c'è il finale anche per avere un po' di di enfasi avere un pochino più anche di è impossibile collocarla all'ultimo io insomma credo che rimangono pochissimi pochissimi intimi e nel mezzo delle manifestazioni sarebbe una cosa abbastanza impegnativa perché poi portano via tanto tempo perché una gara di marcia fra quella maschile e femminile è durata un'ora e mezzo insomma voglio dire sì no poi ecco obiettivamente continuare a passare insomma passano 20 gli uomini passano 25 volte quindi non è uno scherzo no forse come dicevi te se è immaginabile di poter fare la partenza e gli ultimi e l'ultimo chilometro interni credo che sia interessante in maniera tale anche che per dare la possibilità a loro di svolgere la loro manifestazione in presenza del pubblico in presenza delle altri anche per dargli un po' più di stimolo insomma voglio dire metri da percorrere poi Giulia Panconi della Toscana Terrega Empoli Nissan 24 e 31 per la Terrega 2005 Azzurra Francesca con 25 minuti poi al quarto posto Valeria Di Sabato della Terrega 2005 25 008 e poi Ilaria Mariotti della Terrega Cascina 25 e 40 questa è la gara marcia la marcia maschile che effettivamente ha vissuto con la presenza di pochissimi spettatori proprio perché erano le 9 e mezzo di sera no ma più forse forse anche le 10 sì quindi è chiaro che e quindi è chiaro che hanno condizionato anche la partecipazione poi anche loro chiaramente la serata era un pochino non particolarmente bella anche da un punto di vita del caldo e quindi vediamo questi atleti condotta sempre da poi la vinta da picchiottino Gianluca della Libertas Run nel Selivorno che è andato molto forte ha preso subito dopo pochi giri vantaggio nei confronti di Ettore Grillo che poi è rimasto anche lui al secondo posto e la stessa cosa si è verificata anche per Niccolò Coppini della Terrega Firenze Marzo anche lui è rimasto solo di tempi 43 minuti per 10 km quindi pensate il tempo che hanno cioè a volte anche chi corre non riescono a fare 10 km in questa maniera quindi benché ecco quindi per far capire anche il valore perché molto spesso molti non si rendono conto e poi lavorare a livello di anche così è un impegno da un punto di vista proprio articolare abbastanza impegnativo però abbiamo visto veramente degli atleti di buon livello quindi questo ci fa sperare la marcia è sempre stata una delle dei capisaldi dell'Atletica italiana insomma quindi vedremo un po' che succede ecco intanto vediamo l'arrivo 43-09 43-55 per Grillo e 45-21 per Coppini eccoli qua questi atleti che veramente tanto di cappello per il loro sforzo che hanno diciamo svolto in questa in questa prima giornata quindi concludevano la giornata la prima giornata di questi campionati di società proprio loro dopo 10 km di marcia quindi 25 g credo anche da un punto di vista fisico aspettare tutto questo tempo essere partiti poi con tutto sto ritardo comunque certo hanno diciamo dovuto ovviamente dare sforzo allora siamo con Nicola Vizzone che ovviamente molti appassionati dell'Atletica conoscono e ricordano per le sue performance a livello internazionale ecco il presidente che sto oggi qui ad Arezzo per seguire il martello allora hai un po' di nostalgia sul martello poi hai anche degli allievi che ti stai seguendo sì nostalgia sempre perché ho smesso ho smesso tra virgolette poi ci saranno delle sorprese durante il corso della stagione diciamo che ho smesso a gennaio per prendere questo in carico della federazione e advisor del settore lanci insieme a Claudia Kosovic e siamo qua oggi per vedere sia i nostri atleti ma per vedere un po' tutto il movimento dei lanci in Italia ora si comincia col martello poi ci sono due ragazze nel disco che fanno parte del progetto della federazione perciò siamo qua per come inizio stagione vedere se il lavoro è fatto fino ad ora sia come federazione nei raduni e a casa con i tecnici personali sta dando frutto ecco tra l'altro abbiamo visto i risultati tutto sommato non male le prime gare della stagione 60 metri nel martello ma probabilmente aspettavi qualcosa di più importante da parte di questi ragazzi adesso sono ancora tre lanci da fare perciò magari spero che riescono a mettere qualche gara qua abbiamo Fantazzini che fa parte di un progetto under 23 della federazione cerchiamo di portare questi ragazzi al meglio è il raggiungimento dello standard di qualificazione per i campionati europei sia di Bidiwosh che di Grusseto e ieri sono state le buone prestazioni anche se purtroppo il tempo in tutta Italia non ci ha aiutato ma è stato anche Grusseto con Fabri che è una nostra punta sia nel peso che nel disco oggi avremo Strumillo e fuori gara anche Annibali nel disco perciò insomma è un testo importante e tanti ragazzi hanno finito appunto hanno deciso di garegiana anche qua ad Arezzo perché abbiamo finito venerdì passera in collegiale della federazione al centro comuni di Tirrenia perciò è un buon test in vista appunto della stagione che sta cominciando in questi giorni ecco il movimento atletico italiano si sta un pochino risvegliando secondo te si sta risvegliando siamo partiti un pochino tardi perché comunque dopo ogni 4 anni c'è la nomina del presidente che poi nomina i consigli e tutto siamo un pochino in ritardo sulla tabella di marcia però il lavoro che stiamo facendo sta dando dei primi risultati in allenamento e ora ci vuole tempo per poi portarli in gara purtroppo la stagione non è alle porte però noi siamo fiduciosi ecco Nicola ha detto di scena sorpresa nell'arco dell'anno quindi vedremo probabilmente con la maglia azzurra? ma no con la maglia azzurra sicuramente no magari con un azzurro e un altro colore a fianco però la maglia azzurra per l'impegno che ho preso con la federazione non posso farlo e cerco di trasferire la mia esperienza di 26 anni di atletica ad alto livello ai più giovani ecco quindi abbiamo sentito anche un'impressione proprio da Nicola Vizzoni che è stato veramente un portacolori dell'atletica italiana nel mondo e quindi in questa circostanza ecco qui vediamo proprio i protagonisti vincitori di questo lancio del martello che è stato un lancio del martello direi molto qualificato perché se pensate che hanno fatto 60 e 60 fantazzini Erich e poi Ceccarini Dario sempre tutti da tre e tre 54 e 29 49 e 49 per Crivelli Matteo qui siamo passati invece al saltillungo un'altra delle discipline intanto è arrivato anche Moreno Sinatti c'è da dire che questi due concorsi sono gli unici asciutti quasi diciamo della domenica perché dopo ha iniziato a piovere e non ha smesso mai ecco perché anche fare il martello con la pedana bagnata insomma tutte le volte che girano è facile anche scivolare non è sono stati fortunati a farlo prima ecco anche se non c'era nessuno perché come dicevate prima della marcia non c'era nessuno anche il martello è iniziato a mezzogiorno e 45 quando c'erano solo gli addetti certo e anche qui abbiamo visto una bella diciamo tribuna anche se non era piena perché eravamo proprio all'inizio delle gare quindi per far capire qui siamo passati invece alla gara di metri 400 ostacoli 400 ostacoli chiaramente a livello femminile abbiamo visto la Capaccioni Marta della Firenze Marathon che ha vinto con 1-0-2-4 al secondo posto Gaia Azzuri della Trele Casestese 1-0-2-57 al terzo posto la nostra Chiara Cosi è stata battuta proprio nel filo di lana atleta diciamo retina con 1-4-47 poi al quarto posto è giunta per la Trele Livorno Giovanni Di Marta Giaiele che è giunta al quarto posto quindi vediamo un po' intanto queste atlete in questo momento c'è Sara Cosi in terza posizione che viene superata non è questo sono i tempi chiaramente nella seconda serie quindi Chiara Cosi che è arrivata seconda come batteria ecco intanto vediamo un'altra serie diciamo dei 400 ostacoli ovviamente è una delle discipline più pagate anche da un punto di vista dei punteggi però è anche la più tecnica quindi diventa molto impegnativa sì sicuramente è anche faticoso esatto anche molto 400 già di per sé un 400 è già molto impegnativo e hanno fatto dei risultati perché comunque 1.02 cioè non è no no vuol dire camminare vuol dire vuol dire camminare chiaramente poi ecco ci sono delle difficoltà anche che anche nelle serie diciamo quelle un pochino meno meno forti anche per poter mantenere un certo ritmo perché devi fare quei tanti passi da uno ostacolo all'altro quindi se sbagli una volta dopo li sbagli tutti li sbagli il ritmo è fondamentale insomma in questo caso qui intanto avevamo visto in precedenza anche il salti lungo che si è svolto diciamo con a livello maschile con ottimi diciamo anche se non eccezionali risultati però un 7.33 direi che non è male il centro del Capiombino poi al secondo posto è Michele Oliva della Firenze Marathon 7.14 terzo posto per l'Atletica Livorno Andrea Rinaldi 6.89 quindi questi sono diciamo anche i risultati per quanto riguarda i primi tre della specialità qui intanto ancora un'altra serie di 400 ostacoli che ovviamente qui quelli accreditati senza tempo sono costretti a per forza di cose a careggiare a volte per conto proprio intanto ringraziamo anche il dottor Tommasini che è stato insieme a Lorenzo Verni i due medici che hanno assistito e per fortuna senza interventi particolari diciamo la giornata nonostante le difficoltà che ci sono trovate qui intanto vediamo la 4 ecco questa qui è una delle gare forse anche questa qui più spettacolare qui abbiamo un atleta diciamo figlio d'arte Musafal era il padre faceva gli 800 e questo Papis Fall è un atleta fortissimo della Firenze Marathon che è riuscito a fare 50 atleti tra due ma poi anche l'hai intervistato anche te è stato molto aveva un problema di mal di schiena quindi ha subito molto ha subito si ha detto che già insomma la prestazione aveva risentito di questi suoi dolori che in effetti dopo l'avevano quasi costretto eh si doveva fare anche la 4x4 non l'ha fatto poi si è presentato anche in premiazione in grosse difficoltà qualche anno fa faceva anche le campestre faceva quindi si vede che adesso ha cambiato proprio disciplina e lui ha detto dice vabbè dico ma il padre ricordato l'insegnamento giusto dice forse sotto certi aspetti sicuramente poi è chiaro che sono specialità un pochino più tecniche queste e pensare che il padre era un longiligno era un atleta veramente molto forte faceva l'800 faceva era molto forte mi ricordo quando goleggiava insieme a Castefano quindi sapeva veramente ecco di raggiungere risultati importanti anche a livello internazionale qui intanto altre serie dei 400 ostacoli e qui siamo anche nel peso ecco questo nel peso è un altro atleta che ha dominato sia il peso che il disco e quindi questo Fabri che è un atleta diciamo di interesse nazionale anche questo sta viaggiando molto forte sta viaggiando perché Fabri Leonardo della Firenze Marathon ha fatto nel disco ha fatto 49,92 nel peso ha fatto 17,83 quindi tanto di cappello insomma anche per questi atleti quindi il secondo del peso invece Anthony Possidente della Virtus Luke ha 14,13 quindi distanziato quasi di 3 metri e mezzo e quindi questo tanto per per capire quelle che sono le potenzialità però ecco vedere l'atletica anche così visivamente in tutte le sue sfaccettature è molto bello molto spesso diventa difficile anche farla vedere però direi che in questa maniera nonostante le difficoltà anche da parte nostra per poter commentare un po' tutte le gare però è bello farle vedere insomma ecco anche anche in sintesi sono quelle cose che possono essere molto utili per tutti per apprezzare anche questo questo ambiente questa è la prima serie degli 800 si vede che sono atleti che sanno correre perché corrono benissimo e qui abbiamo l'aprile che vedete quella all'interno lì che ha vinto nella prima giornata il 1500 che poi il ritmo basso probabilmente forse non in condizioni perfette idonee è stata costretta poi a 600 a lasciare a lasciare diciamo la compagnia e ritirarsi ecco qui dovrebbe essere il momento in cui è costretta a fermarsi ancora ecco che è lasciata proprio in quel momento a 200 metri finali neanche 150 metri finali è lasciata non era nelle condizioni di poter raggiungere un risultato importante quindi al suo posto invece Camilla Feliciani della Tretica Pietrasanta 2.11 fince davanti a Eleonora Seccherita della Tretica 2005 2.13 e 4 poi al terzo posto Ilaria Piazzi della Libertas Runners Livorno questi diciamo sono un po' i risultati di questa prima serie poi ce n'è anche una seconda serie un pochino più più modesta ovviamente però altrettanto valida insomma ecco perché poi ognuno cerca di migliorarsi costantemente queste sono le occasioni penso per chi fa Tre Riga Leggera per trovare la possibilità di un miglioramento anche di un secondo al di là del piazzamento che in questo caso serviva relativamente ecco vediamo ancora altri altri arrivi che si il primo passaggio ai 400 direi che ha funzionato anche tutto l'assetto dei volontari ecco io devo ringraziare veramente molti ragazzi e uomini e donne che hanno dato una mano per la realizzazione di questa manifestazione che nonostante le condizioni avverse sono rimasti lì fino alla fine della competenza tanto personale non ci dimentichiamo qui non si vede ma ce n'è tanto che sta lavorando insomma c'è anche tutto il gruppo dei giudici c'è tutto però effettivamente i cronometristi ma insomma no no per organizzare una manifestazione non è così così banale insomma sembra bello sembra tutto facile ma poi per passare anche da una specialità all'altra ognuna ha i suoi spazi come vedi ognuno si svolge in un lato del campo quindi ogni lato quindi quando parte una gara c'è da tutto il gruppo che si sposta quindi serve una logistica oltre che il gazebo ma a tavoli dove appoggiarsi c'è chi prende passare gli ostacoli quando fai uomo e donne spostare magari non ci si rende conto da fuori di che impegno sia tutto lo svolgimento di una di queste manifestazioni perché magari non si non si distingue no tutto ma effettivamente c'è un lavoro enorme portare le cose personali da 200 dalla partenza dai blocchi di partenza all'arrivo tutto il lavoro delle hostess sì e qui intanto siamo passati alla gara di metri 800 con la vittoria di Bussotti Nevis Bussotti dell'Atletica Livorno 1.48 e 49 dell'esercito che ha vinto davanti a Lorenzo Cassini dell'Atletica Firenze Marlton 1.59 al terzo posto Fabio Crispino della Firenze Marlton 1.52 e 1 e qui potevamo avere come gli anni passati diciamo un certo Caruso Andrea che poteva essere della partita se non avesse smesso di fare Atletica più che altro per problemi diciamo articolari ha dovuto smettere ma era lo specialista proprio degli 800 era la sua gara era la sua gara 800 poteva essere la sua gara fisicamente come era e l'abbiamo visto fare da spettatore sicuramente un po' di nostalgia gli sarà tornata insomma speriamo che questo possa essere utile a volte per stimolare molte persone effettivamente venendo queste gare gli ritorna anche la voglia dopo non è così facile impegnarsi però comunque provarci insomma riprovarci non sarebbe male ancora sarebbe giovane sì però a ricominciare non è facile un po' arrivare a certi vertici quindi penso che lui ha adesso abbandonato si dedica alla palestra a fare potenziamento quindi peccato perché si è perso veramente dei talenti importanti anche la nostra città che potevano veramente essere a livello nazionale forse anche oltre dobbiamo trovare anche il modo di motivarli questi giovani proprio anche io credo che questi atleti possono come negli altri sport essere attrattivi anche per risponso quindi magari se riescono anche a guadagnare qualcosa perché insomma io direi che questi sono l'atletico uno dello sport più faticosi che ci sono e spesso è fatto senza un riscontro economico invece se ci potesse essere anche per questi ragazzi più giovani che comunque quando vincono una gara ecco questa scusa è la gara forse la seconda gara più più bella spettacolarmente che vediamo proprio un ralentì di questa altra gara in cui la Bongiorni bissa il successo dei 100 merri nel finale addirittura con 23,8 insieme a Irene Siracusa 23,86 80,86 quindi 6 centesimi e la Audrey Allo 24,41 quindi questo è un'altra poi quarto posto la Bazzoni la Chiara Bazzoni con 24,51 eccetera questa via di Arezzo in Italia è stata la miglior gara sui 100 e 200 di campionato di società non ci sono erano tutte qui ad Arezzo le migliori no ma effettivamente abbiamo visto un livello alto bello spettacolare la staffetta 4 la staffetta era tutta qui la staffetta della nazionale che poi andrà ora ai mondiali a Londra e questo ovviamente ci ha fatto anche piacere perché poi c'è stata proprio anche la federazione ha inviato qui anche atleti fuori gara che hanno potuto cimentarsi e quindi che sapevano che potevano fare ecco c'erano gli stimoli giusti per poter raggiungere certi risultati cioè questo ci fa piacere che in Toscana si possa trovare queste occasioni io non so se l'avete detto prima ma oltre che gli atleti c'è anche il campo che sicuramente è positivo favorisce queste prestazioni e c'è il migliore che c'è adesso in Toscana quindi non c'è da dire nient'altro no no qui ecco chiaramente è un campo che può accogliere perché no l'anno prossimo campione di linea assoluti la buttiamo là di Atletica Leggera insomma queste cose quindi siamo passati invece a 200 maschili anche questa è un'altra gara sempre molto valida 21 e 45 per Fabio Pierotti dell'Atletica del Virtus Luca ecco qui vediamo proprio questo rallentifinale direi molto bello in cui fa capire 21 e 60 21 e 45 21 e 60 per Marco Landi quindi bello spettacolo al terzo posto Giacomo Angeli della Terrica Prato poi Alessio Mazzola della Terrica Prato 22 e 26 22 e 29 per Pontigia Giovanni direi che ecco anche queste gare diciamo di spettacolarità perché le gare di velocità sono state molto belle come anche quelle del mezzofondo poi vedremo la gara di 5.000 un'altra delle gare sicuramente più spettacolari che hanno dato vivacità alla competizione con la presenza del campione del mondo Juniors che lì non so quindi voglio dire personaggi che non è che siano quelli dietro dietro l'angolo insomma addirittura lui era tornato da Doha proprio un giorno prima ha fatto un 3.000 in 7.37 qualcosa del genere quindi soltanto così tanto per capire quello che potrebbe chi era questo personaggio qui siamo invece nella gara del salto in alto che avete visto prima è iniziata con l'asciutto e qui proseguiva ovviamente perché hanno cominciato intorno alle 15 e hanno finito intorno alle 6 quindi dopo 3 ore ma hanno trovato la pioggia purtroppo non ha vinto il favorito ecco qui vediamo Lemmy che era quello che aveva il personale di 2.22 di personale che ovviamente non è riuscito a raggiungere i risultati poi a pari metro sono riusciti insieme Giacomo Belli della Libertà Saranno e Rivona avete visto quella precedenza e poi lui a 2.06 si sono fermati entrambi poi Filippo Lari a 2.03 però sempre superando i due metri con queste condizioni vedete qui la pioggia per terra ovviamente la paura che hanno anche molti atleti nelle esprimersi perché se scivolano e cascano male sono a rischio insomma ecco e qui intanto siamo passati alla gara dei metri 5.000 5.000 femminili e qui la giovane allieva dell'atletica in Polinissana la Belinda Shemutai che l'abbiamo vista protagonista nel 1800 il giorno prima nel 1500 il giorno prima oggi essere padrona della situazione anche se la Morelli Giulia dell'atletica Livorno gli ha dato battaglia ecco la vediamo subito dietro poi qui avevamo anche degli atleti di casa nostra come la Emanuela Martinelli e poi la Francesca Barneschi che sono tutto sommato sono bene la vediamo guardata adesso la Martinelli non è più giovanissima è riuscita a fare il 18 18 e 25 si è arrivata quarta è arrivata e la Barneschi invece ha fatto 18 e 55 giungendo settima la Arianna la giovane promessa è arrivata invece al sesto posto 18 e 41 quindi tutto sommato ecco tre arretine anche in questa posizione qui nei primi sette beh tutto sommato ci fa capire che insomma qualcosa ci potrebbe essere per lavorarci anche qui nella nostra città qui c'è la gareggiata anche De Pasquale Silvana del 63 anche lei con le 54 ecco qui vediamo invece la gara dei metri 5.000 vediamo qui col cappellino proprio è l'atleta ugandese Kip Limo che con cappellino c'era anche Malvin comunque pensate è allievo della classe 2000 quindi campione del mondo allievi che corre così con una facilità estrema davanti avete visto i due fratelli Dini poi qui c'era anche il Khalile Yassin che ha fatto tutto sommato una buona gara del 2000 allievo allievo 13.59 ha impiegato vedete proprio con una facilità la corsa io ho impressionante vedere come corre questo atleta che diciamo è in stanza a Siena lì con Giambrone che si allenano e qui vediamo Yassin il Khalile che tutto sommato ha fatto anche lui una buona prestazione considerando tutto aveva fatto proprio una gara del 1500 il giorno prima diciamo che alla fine è positiva qui vediamo proprio l'allungo deciso di Kip Limo che va a vincere 13.59 alle spalle i due fratelli Dini prima Lorenzo della Lega Livorno 14.06 e 14.10 per Samuel è riuscito a doppiare atleti forti quindi insomma è veramente in un altro pianeta e il Khalile ha fatto quella batteria ha fatto tutti i tempi veramente ottimi 15.45 ecco lo vediamo aggiungere al traguardo quindi bel risultato anche per Yassin e il Khalile è giunto ottavo assoluto come tempi quindi non male qui vediamo la seconda serie con Graziano Emanuele e poi Satigliano anche c'era male Satigliano e diciamo che ecco anche queste sono le occasioni per potersi cimentare e vedere le proprie potenzialità perché molto spesso diciamo che non è cioè si vincere le corse su strada così facilmente poi dopo siamo lì e diventa i nostri che magari fanno le corse su strada poi nelle corse su pista è chiaro che qualche difficoltà la incontrano e anche qualche gli manca forse qualche preparazione la preparazione specifica di chi fa solo la pista anche perché correre in pista non è non è facile la differenza lo vedi chi fa sempre pista e chi invece non ci va anche il modo di correre stesso è tutto più elegante chi si allena e chi corre sempre in pista è un piacere guardarlo gli altri si vede che fanno le corse su strada hanno più tecnica sono più tecnici quindi si muovono però direi che anche qui si dimostra chiaramente che è possibile fare l'uno e l'altro e quindi siamo passati alla gara del 4x4 femminile in cui la la Toscana Atletica in Polinissan ha vinto con 4-0-0-96 non male 4-0-1 quindi pensate proprio nello spazio di pochissimi centesimi davanti alla Trega 2005 al terzo posto della Trega Livorno 4-0-2 e 4-0-9 per la Casa di Spamio Pistoia e Lucchesia questa per quanto riguarda il settore femminile queste sono le due gare che completavano un po' il lungo diciamo programma delle gare ben 50 52 gare che sono disputate quindi direi un grande spettacolo anche di proprio di varietà di di situazioni e di competizione quindi dai salti ai lanci alla corsa e che vediamo questa atleta della 2005 è molto c'è un buon margine dopo è andata molto molto forte questa ecco è l'atleta è l'atleta carista si viene superata perché era in testa al terzo di 2005 e viene superata strada facendo la che credita questa qui questa è un'atleta molto l'abbiamo vista anche nelle altre gare proprio di specialità molto forte questa ragazza poi fino all'ultimo proprio al vinto fino all'ultimo comunque buon risultato una tecnica giusta da parte di di queste ragazze anche un fisico molto lungilineo molto molto diciamo molto proprio specifico sì specifico i velocisti sono un pochino più robusti invece da 400 un po' è fisica più lungilineo qui vediamo anche altre serie per quanto riguarda la 4x400 che conclude diciamo il tabellone femminile mentre poi sarebbe la volta della 4x4 maschile anche qui grande grande diciamo battaglia anche per quanto riguarda questi concorrenti ecco fra non molto vedremo anche la una un flash della della gara della 4x4 maschile Davide andando un pochino a concludere un po' anche questa questa diciamo questa trasmissione ma soprattutto per far capire l'atletica cosa possiamo dire l'atletica per chi la per chi la pratica credo che sa già tutto cosa significa e quindi secondo me c'è solo da cercare di incoraggiare e soprattutto evitare che si quegli abbandoni che spesso ci sono e quindi bisogna trovare un modo per far sì che i giovani specialmente quelli dotati non non abbandonino per quanto riguarda la collettività diciamo è un abbiamo Arezzo abbiamo questo stadio fantastico nuovo è possibile farci tanti spettacoli quindi io mi auguro che chi vuol bene all'atletica metta da parte forse qualche personalismo e decida quindi di unirsi e dar vita a manifestazioni come queste e magari anche più belle di queste più importanti di queste perché credo che poi i risultati si vedranno anche proprio in termini di partecipazione oltre che del pubblico ma proprio degli atleti e qui andiamo proprio a completare con questa 4x4 ecco l'ultima frazione ancora incertissima in cui la Virtus Luca andrà a vincere con 3-19-82 contro 3-20-06 dell'Atletica Livorno e 3-21 della Firenze Marathon quindi veramente incertissima fino alla fine poi qui escono fuori i 400isti le leve più diciamo più dinamiche che riescono a ottenere il risultato conclusivo però fino alla fine 400 sappiamo benissimo che è una gara durissima e quindi in questo caso qui vediamo proprio nel finale cercare di raggiungere la la Virtus Luca mantiene questo vantaggio nei confronti anche della Firenze Marathon ed ecco qui invece andiamo a presentare rapidamente quello che sarà la puntata della prossima settimana per quanto riguarda Podisma Atletica abbiamo la Green Cup di Subbiano un'altra gara importante in cui Alessandro Tartaglini e Valentina Mattesini hanno vinto diciamo rispettivamente in campo maschile e in campo femminile questa quinta edizione direi molto spettacolare molto bella da un punto di vista numerico come numero e anche come percorso è favoloso l'ho sempre detto quindi è bellissimo ci sono dei scorci di panorama che non si vedono in altre gare bene con questo noi vi salutiamo salutiamo Davide Faltoni buonasera a tutti l'appuntamento con l'Atletica e con il Podismo alla prossima settimana ovviamente poi c'è la scatata del Castello a fine maggio e quindi vi diremo anche alcuni dettagli di quello che ci attende a fine maggio grazie e buonasera a tutti buonasera grazie 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 grazie